buongiorno claus davi giornalista signor de martino siete stato scracerato voi da poco la famiglia di martino giornalista sono no no volevo sapere la vostra versione dei fatti di come è andata la vicenda poi visto che siete anche informato leggete i giornali no io non ho mai scritto di voi anzi venivo qui proprio per conoscervi da milano si è per i calmanti posso vedere ma perché è stato ingiusta come cosa non mi dedicate un minuto si claus per la televisione è un minuto datemi è il nostro lavoro facciamo sono anche da solo non mi volevo infastidire scusate lo so lo so ci andiamo a bere un caffè non ci andiamo a bere un minuto non ci andiamo a bere un minuto grazie a tutti Grazie a tutti.